Buonasera, grazie di l'invito. Dico un paio di informazioni dello studio. Noi siamo un studio di progettazione interni e architettura in Croazia, lavoriamo in tutta la specialmente nella parte costiera, seguiamo la nostra specializzazione a seguire i progetti turistici alberghieri, che è comunque un progetto reale che si sta attualmente sviluppando. Si tratta di un piccolo albergo di una trentina, quarantina di stanze che sarà a un livello di design abbastanza alto e abbiamo sempre un problema reale in questi progetti dove dobbiamo portare il calore dentro allo spazio, dentro all'interno e non creare un interno dove il caloifero sarà un elemento di bisogno ma anche un elemento di piacere visuale. In questo caso avremmo la possibilità di utilizzare radiatore di design che possono arricchire non solo il bagno, quello che abbiamo capito, ma anche i spazi comuni piuttosto che i spazi di una camera o di un soggiorno. Alla fine ci siamo decisi di utilizzare il tubone perché questo progetto, come detto prima, è un progetto reale che si sviluppa in Istria e l'Istria è una regione turisticamente molto avanzata, ma anche con tanto calore, con tanti colori caldi, con tanti colori che ricordano la terra, la sabbia, la pietra. Avendo questo in mente abbiamo detto che dobbiamo fare qualcosa che si abbina a tutti questi materiali, a questa matericità, perché comunque ogni cosa che si utilizza in ambienti tipo questo albergo deve avere non solo il calore visuale, ma anche il calore tattile, quindi dobbiamo avere un elemento materico e qua il tubone come design visualmente si è abbinato perfettamente perché ha questa forma rotonda, calda, che non ha nessun spigolo. Con questa forma e con il colore che abbiamo deciso di utilizzare dentro, che si abbina molto bene all'interno, abbiamo cercato di ricreare il corten, abbiamo creato un ambiente dove questo radiatore ha anche un suo aspetto visuale scenografico che aiuta lo spazio. Grazie a tutti.